In esclusiva per Novara.com una serata molto particolare, un aperitivo culturale davvero per Novara è una grande novità e fortunatamente una bella novità. Diamo la parola alla Presidentessa. Buonasera, io sono Anna Maria Furchini Stabile, sono Presidente dell'Associazione Culturale Traccio per la Meta. Questa sera siamo a Novara per presentare il libro della signora Anna Scarpetta che è una poetessa affermata, conosciuta. Il suo libro è Io sono soltanto un granello di sabbia ed è stato pubblicato dalla libreria editrice Urso di Avola che ha un concorso annuale e la signora è stata selezionata, il suo libro è stato selezionato per la pubblicazione e quindi è un successo personale. Noi siamo soci di questa associazione, ci pregiamo di avere Anna Scarpetta tra i nostri soci e io stasera appunto presenterò questo libro che è ricco di sentimenti, di femminilità, di buoni principi e di tutte quelle cose belle e buone che fanno parte della realtà di una persona. Siamo alla trattoria Triscalindi Novara che è un posto storico per la nostra città dove sicuramente sentimenti e emozioni sono passate in misura maggiore rispetto ad altri luoghi magari più di fascine moderni. Signora Anna Scarpetta, le emozioni del suo libro? Le emozioni del mio libro sono tantissime, io non mi aspettavo che questo libro appena uscito già ha superato se stesso nel senso che ha avuto tre recensioni, una più bella dell'altra una dal critico letterario recensionista Marzia Caroccio di Firenze e un'altra dallo scrittore Lorenzo Spurio di Ancona di Esi e quindi sono felicissima di come sta andando questo libro che è molto apprezzato e sinceramente suavento complimento da tutte le parti. Si parla d'amore e per amore nel suo libro? Si parla un po' di tutto nel mio libro, si parla della crisi mondiale, si parla dello spread che salza e ci fa impazzire, si parla del web, del libro cartaceo che sta andando in pensione, un po' tutto, ha rivoluzionato a 360 gradi un po' tutto. Ecco, forse l'attenzione di questo libro è proprio per questo. Quindi noi siamo qui per ascoltarla, per ascoltare chi la presenterà e una buona serata da tutta Novara e grazie per essere qui con noi. Grazie infinite, grazie della cortesa attenzione che ha voluto riservarci questa sera la sua attenzione come giornalista online. Grazie, e la nostra testata, grazie. Grazie a lei, grazie a lei.